Per l'autunno Sissi ha preparato una grande sorpresa, il diario con copertina olografica e tutta la linea scuola di una vera principessa. Lo zaino di Sissi è sicuramente il più elegante e grazie al suo pratico carrello la scuola diventerà più leggera. Anche le cartelle hanno lo stile della principessa Sissi, così come i preziosi astucci, il capiente astuccio doppio e i bellissimi quaderni. La scuola della principessa Sissi è la romantica realtà di giochi preziosi, l'unica col carrello e il pesazaino elettronico. Grazie a tutti.